Ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla parte numero 34 della guida di Pokemon Sul Silver e finalmente abbiamo battuto la Lega bene, una volta sconfitta la Lega ci ritroveremo nella nostra stanza e scendendo le scale ci verrà incontro la nostra madre che ci dirà di andare dal Professor Realm quindi andiamo subito nel suo laboratorio e parlandogli lui ci regalerà il biglietto per la nave che finalmente potremmo utilizzare per andare accanto era da tanto che aspettavamo questo momento e finalmente ci possiamo andare ok, voliamo Livinopoli dopodiché andiamo a perdere la nave una volta entrati ci sarà il Professor Rock che ci darà il Pokdex nazionale e quindi dirà cioè, poche parole, il discorso è quello che lo dobbiamo completare dai dirà di mettercela tutta per cercare di completarlo, appunto parliamo con quel marinaio lì che ci darà cioè, ci chiederà di fargli vedere il biglietto e dopodiché possiamo partire con la nave eccoci qua, una volta entrati subito appena fatto un passo arriverà questo signore che starà cercando una bambina che sia nascosta intanto, per iniziare su questa nave avevo intenzione di sfidare gli allenatori quindi come vedete sto cercando gli allenatori eccolo qua, uno voglio sfidare un po' di allenatori su questa nave e per far salire un po' di esperienze insieme ai Pokémon anche se loro sono a livello molto più basso rispetto a noi quindi non penso che possano diciamo, crearci dei problemi qui come vedete questo allenatore aveva un Bronzorg al 39 questo qui manda in campo un Golem e adesso utilizzo Surf con Garrido sul Rosso come vedete è super efficace infatti va a capò e voilà bene, cambiamo pure stanza allora, in questa stanza qua non c'è nessuno io adesso ho saltato questa mi pare esatto, dove ci saranno queste due gemelle e questo allenatore qua adesso io sfido per primo questo che avrà un solo Pokémon un Delibir e le due gemelle avranno due Pokémon proprio da bambine diciamo perché sono un Pampi e un Taddiursa quindi pensate a voi due Pokémon proprio da bambine però diciamo che le loro evoluzioni iniziano ad diventare un po' più serie eccole qua li proviamo a sconfiggere eccolo qua come vi avevo detto ok ok allora andiamo utilizzo Genodenti e e segno Raggio Genodenti su Pampi che muore e segno Raggio su Taddiursa che lo uccide con un colpo ecco qua ci siamo sbarazzati queste due gemelle molto in fretta ok proseguiamo qua ci sarà un Mangiafuoco se non sbaglio si eccolo qua ecco avrà tre Pokémon un Koffing molto semplice da battere dato che se usiamo Surf dovrebbe morire dovrebbe sì esattamente poi manderà un altro Koffing a livello 36 e infine e manderà un Flareon che lui essendo debole all'acqua non residerà molto però lui intanto ci ha usato attacco rapido ma non ci ha cavato niente ok abbiamo battuto con questo Mangiafuoco possiamo andare in questa stanza se questa qui è la nostra stanza se andiamo in questo letto ci curiamo i Pokémon ecco qua e adesso possiamo scendere per queste scale andando da destra qui ci sarà un allenatore innanzitutto che adesso lo sfiderò avrà due Pokémon eccolo qua il primo utilizziamo surf e muore e poi il secondo Pokémon che utilizzerà sarà Raticate a me sinceramente Raticate non mi piace per niente però l'ho fatto quindi toccherà farvelo il piacere ed ecco qua che se tenteremo di andare da questa parte ci sarà questo marinaio che ci fermerà perché dice che c'è un un suo collega che è in ritardo in poche parole e quindi noi lo andremo a svegliare eccolo qua parlandogli lui scapperà e ci lancerà una sfida ecco qua come vedete tre Pokémon un Machop al 39 adesso io utilizzo surf e muore poi manderà un Machop al livello 41 però non muore con un colpo di surf lui usa incrocolpo e non è molto efficace e noi con due colpi di surf lo mandiamo K ok mando uno Psyduck adesso cambio e metto Amparos e userò scarica come vedete Psyduck non ha speranze e quindi morirà subito e in fretta bene abbiamo sconfitto questo marinaio che adesso tornerà a fare il suo lavoro quindi noi scendendo le scale e andando verso destra adesso potremo passare bene saliamo queste scale e arriveremo dentro questo edificio dove ci sarà il capitano della nave parlando con questa bambina lei ci chiederà se vogliamo giocare a nascondino cioè ci chiederà in poche parole fare tutto da sola perché ci chiede se vogliamo giocare a nascondino e poi alla fine si nasconde e noi la dovremo trovare adesso io so dov'è quindi seguitemi ma comunque è qui e non è che sia tanto difficile trovare perché la testa si vede quindi non è che avrete molti problemi una volta portata indietro la bambina otterremo un punto metal coperta che servirà per far evolvere due pokemon e Sainter in Shizor e Onix in Stelix qui adesso possiamo uscire dalla nave dato che siamo arrivati ad Aranciopoli e finalmente siamo giunti alla nuova città come vedete adesso qua non capisco perché si sia bloccato ok scusate ma si era bloccato volevo salvare un attimo e incontreremo sui kun nell'acqua che dovrebbe scappare via perché ancora non è arrivato il momento di catturarlo e incontreremo sempre il solito signore ecco qua vedete sui kun adesso noi ci avviciniamo arriverà il solito signore e sui kun scappra via ecco qui dice che lui sta ricercando gli spostamenti di shi kun e robe del genere e dopo di chi se ne andrà via bene noi possiamo salire verso la città di aranciopoli bene se andiamo qua a destra incontreremo guardate chi c'è snorlax guardatelo quanto è grosso e invece a sinistra ci sarà appunto aranciopoli allora qui ci sarà la palestra per andarci dobbiamo utilizzare taglio io adesso mi volevo andare curare un attimo i pokemon bene entriamo dentro per curarci i pokemon ok vabbè adesso la parte finisce qua nella prossima parte andremo a sfidare la palestra quindi prendete tagli in squadra perché come avete visto ci sarà da tagliare un albero e vi saluto ciao a tutti e commentate iscrivetevi al mio canale e ciao a tutti dal cisgenato 81 ciao a tutti